i sette messaggeri un racconto di dino buzzati partito ad esplorare il regno di mio padre di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare ho cominciato il viaggio poco più che trentenne e più di otto anni sono passati esattamente otto anni sei mesi e quindici giorni di ininterrotto cammino credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno e invece ho continuato ad incontrare sempre nuove genti e paesi ed ovunque uomini che parlavano la mia stessa lingua che dicevano di essere sudditi miei penso talora che la bussola del mio geografo sia impazzita e che credendo di procedere sempre verso il meridione noi in realtà siamo forse andati girando su noi stessi senza mai aumentare la distanza che ci separa dalla capitale questo potrebbe spiegare il motivo per cui ancora non siamo giunti all'estrema frontiera ma più sovente mi tormenta il dubbio che questo confine non esista che il regno si estenda senza limite alcuno e che per quanto io avanzi mai potrò arrivare alla fine mi misi in viaggio che avevo già più di trent'anni troppo tardi forse gli amici i familiari stessi deridevano il mio progetto come inutile dispendio degli anni migliori della vita pochi in realtà dei miei fedeli a consentirono a partire sebbene spensierato ben più di quanto sia ora mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari e fra i cavalieri della scorta scelsi i sette migliori che mi servissero da messaggeri credevo inconsapevole che averne sette fosse addirittura un'esagerazione con l'andare del tempo mi accorsi al contrario che erano ridicolmente pochi e sì che nessuno di essi è mai caduto malato né è incappato nei briganti né ha sfiancato le cavalcature tutti e sette mi hanno servito con una tenacia e una devozione che difficilmente riuscirò mai a ricompensare per distinguerli facilmente imposi i loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive alessandro bartolomeo caio dominico ettore federico e gregorio non uso alla lontananza dalla mia casa vi spedì il primo alessandro fin dalla sera del secondo giorno di viaggio quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe la sera dopo per assicurarmi la continuità delle comunicazioni inviai il secondo e poi il terzo poi il quarto consecutivamente fino all'ottava sera di viaggio in cui partì gregorio il primo non era ancora tornato ci raggiunse la decima sera mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata seppi da alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto avevo pensato che procedendo isolato in sella un ottimo destriero egli potesse percorrere nel medesimo tempo una distanza due volte la nostra e invece aveva potuto solamente una volta e mezzo in una giornata mentre noi avanzavamo di 40 leghe lui ne divorava 60 ma non di più e così fu degli altri bartolomeo partito per la città alla terza sera di viaggio ci raggiunse alla quindicesima caio partito alla quarta alla ventesima solo fu di ritorno e ben presto constatai che bastava moltiplicare per cinque i giorni fin lì impiegati per sapere quando il messaggero ci avrebbe ripresi allontanandoci sempre più dalla capitale l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo dopo 50 giorni di cammino l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri cominciò a spaziarsi sensibilmente mentre prima me ne vedevo arrivare al campo uno ogni cinque giorni questo intervallo divenne di 25 la voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia trascorsi che furono sei mesi già avevamo varcato i monti fasani l'intervallo fra un arrivo e l'altro dei messaggeri aumentò a ben quattro mesi essi mi recavano oramai notizie lontane le buste mi giungevano gualcite talora con macchie di umido per le notti trascorse alla diaccio da chi me le portava procedemmo ancora in vano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullizza che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava che l'aria fosse la stessa uguale il soffio del vento identiche le voci degli uccelli le nuvole il cielo l'aria i venti gli uccelli mi apparivano in verità cose nuove e diverse e io mi sentivo straniero avanti avanti vagabondi incontrati per le pianure mi dicevano che i confini non erano lontani io incitavo i miei uomini a non posare spegnevo gli accenti scoraggiati che si facevano sulle loro labbra erano già passati quattro anni dalla mia partenza che lunga fatica la capitale la mia casa mio padre si erano fatti stranamente remoti e quasi non ci credevo ben venti mesi di silenzio e solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo e in esse trovavo nomi dimenticati modi di dire a me insoliti sentimenti che non riuscivo a capire il mattino successivo dopo una sola notte di riposo mentre noi ci rimettevamo in cammino il messo partiva nella direzione opposta recando alla città le lettere che da parecchio tempo io avevo apprestate ma otto anni e mezzo sono trascorsi stasera cenavo da solo nella mia tenda quando è entrato domenico che riusciva ancora a sorridere benché stravolto dalla fatica da quasi sette anni non lo vedevo e per tutto questo periodo lunghissimo egli non aveva fatto che correre attraverso praterie boschi deserti cambiando chissà quante volte cavalcatura per portarmi quel pacco di buste che finora non ho avuto voglia di aprire egli è già andato a dormire e ripartirà domani stesso all'alba ripartirà per l'ultima volta sul tacuino ho calcolato che se tutto andrà bene io continuando il cammino come ho fatto finora e lui il suo non potrò rivedere domenico che fra 34 anni io allora ne avrò 72 ma comincio a sentirmi stanco ed è probabile che la morte mi coglierà prima e così non lo potrò mai più rivedere fra 34 anni prima anzi molto prima domenico scorgerà inaspettatamente i fuochi del mio accampamento e si domanderà perché mai nel frattempo io abbia fatto così poco cammino come stasera il buon messaggero entrerà nella mia tenda con le lettere ingiallite dagli anni cariche di assurde notizie di un tempo già sepolto ma si fermerà sulla soglia vedendomi immobile disteso sul giaciglio due soldati ai fianchi con le torce morto eppure va domenico va e non dirmi che sono crudele porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio i più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate che mio padre ha morto che la corona è passata a mio fratello maggiore che mi considerano perduto che hanno costruito alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare ma è pur sempre la mia vecchia patria tu sei l'ultimo legame con loro domenico il quinto messaggero ettore che mi raggiungerà dio volendo fra un anno e otto mesi non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a ritornare dopo di te il silenzio o domenico a meno che finalmente io non trovi i miei sospirati confini ma quanto più procedo più vado convincendomi che non esiste frontiera non esiste io sospetto frontiera almeno nel senso che noi siamo abituati a pensare non ci sono muraglie di separazioni né valli divisorie né montagne che chiudano il passo probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti ignaro per questo io intendo che ettore e gli altri messi dopo di lui quando mi avranno nuovamente raggiunto non riprendano più la via della capitale ma partano innanzi a precedermi affinché io possa sapere in antecedenza ciò che mi attende un'ansia inconsueta da qualche tempo si accende in me alla sera e non è più rimpianto delle gioie lasciate come accadeva nei primi tempi del viaggio e piuttosto è l'impazienza di conoscere le terre ignote a cui mi dirigo vado notando e non l'ho confidato finora a nessuno vado notando come di giorno in giorno man mano che avanzo verso l'improbabile meta nel cielo irraggi una luce insolita quale mai mi apparsa neppure nei sogni e come le piante i monti i fiumi che attraversiamo sembrino fatti di un'essenza diversa da quella nostrana e l'aria recchi presagi che non so dire una speranza nuova mi trarrà domattina ancora più avanti verso quelle montagne inesplorate che le ombre della notte stanno occultando ancora una volta io leverò il campo mentre domenico scomparirà all'orizzonte dalla parte opposta per recare alla città lontanissima l'inutile mio messaggio